Nel mondo del ciclismo, anche fuori d'Italia, cominciavano a organizzare diversi ex oppure altra gente del mio mondo. Allora ho pensato perché non farne uno anch'io a Bergamo, visto che qualcosa ho vinto anch'io e così. Sono partito piano piano, stiamo arrivando alla diciottesima. Naturalmente a volte con grosse difficoltà, a volte un po' meno, però quando organizzi un certo livello è sempre impegnativo. Il ciclista è sempre una sinergia, comunque, no? Se io trovo, dico Prodi per non dire presenti, se lo trovo vestito normale, gli do del lei. Se lo trovo vestito al corridore gli dico ciao, come stai? E me nare, insomma, quello che passa in gruppo normalmente il collegio, ecco.